Oh bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, sempre Dark Knight Players che vi parla E continuiamo con il gameplay di Assassin's Creed di Unity Questa volta con la missione L'argentiere Interessante Allora io direi, dato che lì c'è una bella guardia Di andare da quest'altra parte Dove ci sono ancora più guardie Dai zumba Che cazzo di salto Facciamoci vedere No, devono essere sempre difficili le cose, no? Mai che c'è una cazzo di cosa semplice Mai una volta che c'è qualcosa di semplice, no? Sempre le cose difficili Ehi, col cazzo Non vieni qua, eh Che cazzo da voi, traslinda Sto qui da tre settimane E non l'ho mai visto Per favore, no, no Non tutte le guardie, per favore No Ma che cazzo Sempre questi Aspetta, rubiamoli da questi No, hai nessuno che tiene un primaldello di me Devo rompere sempre Vabbè Signor Germain L'argentiere Grazie a te Grazie a Dio Mi tengono qui ormai da mesi Ti prego Portami via Prima Voglio sapere di questo Non c'è tempo Ti dirò tutto una volta fuori Ma ora andiamo O torneranno le guardie Bene Andiamo No Controllano l'entrata principale Dovremmo scendere di sotto per evitarli Seguimi allora In silenzio Eh Speriamo Che cazzo Vabbè Pare che puoi essere il miglior modo Per uscirne fuori Che cazzo fa Se ne andò a due Molto bene Ah Un momento Ci vedi Come faccio a uccidere tutte Senza farmi vedere Eh Odio Cazzo Sempre queste porte Da forzare Di qua Ma c'è Io me le deprederei Per vedere se tengo Dei cazzo di Grimardelli Un attimo Ma no Grimardelli Nessuno No Oh Grimardelli Finalmente Bottiglia d'olio Che cazzo Se ne fanno Questi della bottiglia d'olio Mi capisci Ma vediamo Se riusciate A vista Porta di merda Oh Vaffanculo Guardate che è sempre una cazzata Ma in realtà È difficile C'è Non serve un cazzo In realtà Prissaporta Spiegami Che cazzo Serve la prissaporta C'è Consumi Grimardelli C'è Guarda No Che cazzo Di guadri Procca puttana Cazzo Di guadri Guarda Usa 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 Siamo Asi Ba De Tra